Ciao amiche ed amici di YouTube, bentrovati, benvenuti a questa nuova puntata del cielo della settimana dopo questa pausa estiva, stasera puntatona perché parleremo del nuovo transito di Marte in gemelli che durerà ben sei mesi. Prima di entrare nel vivo però le solite raccomandazioni, iscrivetevi al canale, attivate la campanella per non perdere nessuna delle nuove uscite e se siamo pronti partiamo. Allora io direi di entrare a bomba nel tema di questa settimana che è un tema importante perché da qualche giorno e cioè dal 20 di agosto Marte si è spostato, ha lasciato il toro dove stava da un paio di mesi ed è entrato in gemelli dove resterà per un tempo eccezionalmente lungo perché ci resterà fino a marzo del 2023, quindi sei mesi abbondanti, anche qualcosina in più. Perché? Perché in gemelli farà l'anello di sosta e quindi farà il moto retrogrado, in particolar modo Marte procede dritto in gemelli fino al 31 di ottobre, il 31 di ottobre raggiunge il venticinquesimo grado e ingrana la retromarcia, prosegue a marcia indietro fino a metà gennaio dove tocca l'ottavo grado dei gemelli e poi rimette la marcia avanti per un totale di sei mesi e passa. Allora intanto lasciamo qua questi due gradi che però sono importanti, dopo ci torniamo, quindi il venticinquesimo grado dei gemelli che è dove ingrana la marcia indietro e l'ottavo grado che è dove ringrana nuovamente la marcia avanti. Quindi abbiamo un lunghissimo transito di Marte in gemelli, Marte fa un anello di sosta ogni due anni circa, l'ultimo lo ha fatto nel 2020 in Ariete e adesso lo fa in gemelli, il prossimo sarà tra un paio d'anni, intorno al 2024. Allora partiamo dalle caratteristiche del transito perché poi al moto retrogrado dedicherò un approfondimento apposito nel momento in cui accadrà, quindi tra novembre, dicembre e gennaio. Allora diciamo subito che come ormai sapete benissimo quando ogni pianeta rappresenta una determinata energia, una determinata funzione ed il segno in cui si trova rappresenta le qualità, le caratteristiche attraverso le quali quella funzione si esprime. In questo caso parliamo di Marte che è il pianeta della affermazione personale, il pianeta dell'azione, è il pianeta della guerra per certi aspetti perché Marte è il nostro guerriero interiore, quindi è quella spinta che ci porta ad affermarci anche in qualche caso sgombrando il campo da chi cerca di ostacolarci la strada o comunque tenendo il punto e affermando le nostre ragioni. Quindi Marte ha comunque a che fare con la spinta, con l'azione, con l'affermazione di se stessi. In questo caso entra in gemelli che è un segno d'aria e già da qui arriva la prima associazione di idee. Marte in aria, elemento delle idee e degli ideali, significa insistere, lottare e tenere il punto per affermare le proprie idee e ancora prima avere il coraggio delle proprie idee, non dubitarne, avere la certezza delle proprie ragioni, avere quella determinazione che bisogna avere dentro a livello di testa, poi a livello di bocca, cioè parlando, dando voce alle proprie certezze e poi ancora a livello di azione concreta. Quindi Marte ci porta un po' tutti a mettere a fuoco le idee, ad averne il coraggio e ad affermarle. Poi ancora, i gemelli sono il segno del dialogo, della parola, quindi Marte in gemelli ci spinge proprio appunto ad avere sicurezza delle nostre ragioni di esprimere verbalmente, non avendo timore di affrontare discorsi che finora non abbiamo affrontato, non avendo timore di dire le cose dritto per dritto, esattamente come le pensiamo, lo penso, lo dico. Ancora, Marte in gemelli, gemelli il segno dello scambio, il segno delle trattative che preludono gli accordi, per cui Marte ci spinge ad affrontare tutte quelle situazioni in cui ci sembra di ottenere meno di quanto meritiamo, ci sembra di non ottenere ciò che meritiamo in base a ciò che facciamo. E questo non riguarda solo il lavoro, ma riguarda qualunque aspetto del viver quotidiano, perché anche dare di più in una relazione di quanto si riceva in cambio, anche incollarsi tutta una serie di situazioni. Se il cane lo porto sempre io e tu stai sul divano, qualcosa va rivisto. Se io ho più attenzioni di quante non riceva in cambio, qualcosa va rivisto. Marte in gemelli aiuta proprio a dare voce alle trattative che servono per riaggiustare certi accordi. Finora sto parlando per tutti i segni, perché questi valori, questi simboli, sono comunque al centro del nostro cielo per i prossimi mesi. Poi dopo entreremo un po' nel merito dei vari segni zodiacali, però è importante per me non perdere il significato generale del transito. Quindi abbiamo detto coraggio delle proprie idee, la forza di esprimerle, di tirarle fuori anche verbalmente, di affrontare quando serve dei discorsi o delle discussioni che servono proprio a chiarire il proprio punto di vista, il fatto di aggiustare tutte quelle situazioni in cui sentiamo di ottenere meno di quanto non diamo. Però c'è un altro aspetto importante dei gemelli che quando vengono considerati come simbolo zodiacale spesso viene messo un po' in ombre, che è molto importante, perché i gemelli sono anche il segno dell'esperienza diretta delle cose, della conoscenza empirica del mondo. Cioè va bene leggerle sui libri, va bene farsene raccontare, ma arriva un momento in cui per capire come è fatto il mondo devo viverlo in prima persona. Proprio come fanno i bambini quando misurano gli spazi e gli ambienti gattonando o quando toccano il ferro da stiro e imparano che quella cosa non va fatta, che è una cosa ben diversa da studiare la termodinamica. Allora Marte in gemelli significa proprio che arriva un momento di fare esperienza diretta di alcune situazioni, che magari finora ci abbiamo rimuginato, ce le siamo fatte raccontare, abbiamo letto le istruzioni, abbiamo raccolto informazioni, beh arriva un momento in cui però devo capire se fa per me oppure no. E lo capisco solo cimentandomi concretamente, provando sulla mia pelle, vedendo che reazioni suscita in me. Questo vale per tutto, vale per un nuovo, se abbiamo voglia di cambiare lavoro, vale se stiamo pensando ad un trasferimento, vale rispetto ad un nuovo rapporto, insomma le cose vanno provate sulla propria pelle per capire se funzionano oppure no. E Marte in gemelli dà proprio quella spinta che serve a farsi avanti, ad introdursi in un nuovo ambiente, a non uscire da una zona di comfort, insomma a buttarsi in situazioni nuove che ancora non conosciamo bene. Come tutti i transiti chiaramente c'ha un rovescio della medaglia, c'ha i suoi effetti collaterali e basti pensare che Marte entra in un segno governato da Mercurio. E questi due fattori, Marte e Mercurio, mescolati, producono una parola forte e chiara che è polemica. Per cui Marte in gemelli rischia di renderci un po' polemici, rischia di spingerci a volere sempre l'ultima parola in una discussione, rischia a volte di spingerci ad alzare anche un po' la voce, per cui sicuramente bisogna stare attenti, cioè il coraggio delle idee, la determinazione, la fermezza vanno bene. La voce, come nei talk show dove inquadrano sempre chi strilla di più, non va bene e con Marte in gemelli un po' il rischio c'è. Poi adesso entriamo nel merito dei vari segni zodiacali, però anche questo è sicuramente un aspetto, diciamo, da tenere in considerazione. Allora, detto questo, vediamo un attimo come interagisce questo nuovo Marte con il cielo dei vari segni zodiacali. Poi, come sapete, in realtà il funzionamento dei transiti è molto più elaborato, perché chi conosce un po' il proprio tema di nascita dovrebbe vedere anche un po' come si pone questo Marte rispetto agli altri pianeti, rispetto al Marte di nascita, però qui noi dobbiamo astrarre e ci riferiamo solamente al segno solare. Però ascoltate anche, diciamo, il segno dove avete l'ascendente, perché sicuramente ha grande importanza. È un transito che tocca soprattutto i segni d'aria e quindi gemelli, acquario e bilancia, per i quali è una vera e propria iniezione di energia. Però io partirei dall'acquario, ancor prima che dai gemelli, perché? Perché l'acquario, ancor prima di avere Marte a favore, si libera da due mesi con Marte in quadratura e con il Sole in opposizione, che tra un paio di giorni pure se ne va. Per cui queste prime tre settimane di agosto, che sono state così faticose per l'acquario, che l'hanno sportato anche nel pieno di una vacanza, o peggio ancora se non in vacanza, a rimuginare su una serie di situazioni, a scavarsi dentro, a sentirsi intollerante, insofferente a tutto ciò che gli fa sentire le mani legate, che lo tarpa nelle sue espressioni, insomma tutto questo mood, che tra l'altro ho raccontato in un articolo che si chiama Buon Anticomplean Aquario e che moltissimi di voi hanno letto perché ho ricevuto commenti a non finire, ma se l'avete perso andatelo a recuperare sul sito perché ha proprio il senso di raccontare il significato di queste prime tre settimane di agosto, che di anno in anno rappresentano un momento un po' tormentato per l'acquario e che quest'anno lo sono state ancora di più, proprio perché c'era Marte in quadratura, per cui nervosismo, nervi a fior di pelle, tendenza a perdere un po' le staffe, allora adesso tutto questo se ne va e da un lato entra Marte nella quinta casa, che è la casa del benessere, la casa della spontaneità, per cui un acquario più sicuro di sé, più sicuro delle proprie ragioni, anche più in controllo di certe situazioni e contemporaneamente Marte e il sole lascia l'opposizione tra un paio di giorni. Combinando questi due aspetti è come se l'acquario avesse fatto la sua parte, fosse stato al gioco, avesse rispettato la sua parte di patti e adesso andasse incontro al mondo dicendo non mi aspetto da te niente di meno, mi aspetto che tu stia ai patti, mi aspetto che tu rispetti quelli che sono gli accordi, che tu faccia la tua parte, che tu non ti tiri indietro, per cui un acquario che da questa settimana riscopre diciamo una maggiore energia e che si lascia alle spalle le ombre di una prima parte di agosto che invece è stata abbastanza turbolenta, soprattutto nei giorni della luna piena, quindi 11, 12, 13 agosto, insomma probabilmente chi ha l'ascendente in acquario si sarà reso conto di essere, diciamo di aver passato un agosto un po' più faticoso. Passiamo ai gemelli che sono il segno che riceve Marte in casa e che lo ospita per ben sei mesi, quindi per molto tempo, allora Marte in casa, Marte nel segno è proprio innanzitutto espressione di energia, di grinta, di decisione, di capacità di affermarsi, di tenere il punto nelle discussioni, di farsi avanti, per cui sicuramente lasciamo alle spalle dei gemelli un po' più intimoriti e diamo il benvenuto a dei gemelli più forti e più sicuri. Sicuramente è un transito che aiuta chi deve prendere una decisione, questa è una cosa che avevo già pensato ma che oggi ho letto anche nei commenti di molti di voi, cioè ci sono molti nati del segno che arrivano fin qui con una decisione da prendere, che fino l'hanno rinviato o comunque con una presa di posizione forte da fare rispetto a qualcosa che non gli sta più bene, rispetto a qualcosa che non li rappresenta più, allora l'arrivo di Marte nel segno da un lato e del sole in quadratura dall'altro è proprio quella spinta che serve a farsi largo, a spingere, a dare maggiore energia, maggiore gas, a togliere un freno a mano e a prendere delle decisioni anche importanti, anche di rottura. Comunque Marte nel segno poi dà anche la spinta giusta per emergere di più, per uscire di casa e farsi vedere di più, quindi anche in amore è sicuramente un transito che rende più energici, più forti, più anche affascinanti e carismatici. Insomma è energia, per cui è sicuramente un transito che dà una grande spinta. Molto forte anche la bilancia, bellissimo Marte per sei mesi nella nona casa, che è la casa dell'espansione, la casa dei viaggi, ma è anche la casa di ciò che porta lontano, per cui intensifica i rapporti con le altre città, intensifica le occasioni per viaggiare, per andare in trasferta, per allargare gli orizzonti, per esportarsi in altri mercati, ma simbolicamente Marte in nona porta ad allargare certi orizzonti, che può significare anche tornare sui banchi di scuola, riprendere in mano degli studi interrotti, rendersi più appetibili sul mercato del lavoro, con dei corsi di aggiornamento, di perfezionamento. Insomma è una bilancia che si va costruendo mese dopo mese e che adesso ritrova anche una spinta espansiva, che significa anche tentare imprese mai tentate prima, significa anche mettersi più in gioco, riuscire a superare diciamo una zona di comfort e andare altrove dove ci sono occasioni migliori, per cui sicuramente è una bilancia che ha il vento in poppa, lo ricordo, per sei mesi e bisogna prestare grande attenzione a tutto ciò che punta altrove, che si tratti di viaggi, di trasferte, di possibili trasferimenti, di rapporti con altre città, di anche semplicemente mettersi online o farsi tradurre in altre lingue o cercare referenti in altre città, qualunque cosa che possa creare una rete di contatti che allargano gli orizzonti. Tutto questo è preziosissimo da qui al prossimo mese di marzo. Allora molto forte questo Marte anche nel cielo dei segni di fuoco e soprattutto nel cielo del leone e dell'ariete. Partiamo dal leone perché come l'acquario anche per il leone questo cambio della guardia significa lasciarsi alle spalle un Marte ostile negli ultimi due mesi e accogliere invece un alleato in casa, quindi si stempera per il leone quella sensazione di essere sotto pressione sul lavoro, di dover sgomitare o guardarsi costantemente le spalle, di dover faticare 100 per ottenere qualcosa che vale 10 o comunque di essere sempre perennemente sotto osservazione. Adesso il leone da qua al prossimo mese di marzo ha, che tra l'altro rappresenta anche un giro di boa importante per il leone il prossimo mese di marzo perché è anche il momento in cui Saturno lascerà l'opposizione dopo tre anni, per cui sicuramente un momento importante. Adesso Marte entra nell'undicesima casa che è la casa degli orizzonti che si allargano, la casa delle nuove prospettive, per cui è un leone che torna a fare progetti anche animato da un nuovo ottimismo, da una nuova fiducia nel futuro, da un nuovo senso di sicurezza personale e che soprattutto trova finalmente degli alleati. Cioè come se venisse da mesi in cui si è dovuto guardare le spalle e adesso potesse scoprire che guarda caso ci sono anche le persone che ti possono dare una mano. Per cui importantissime in questa parte finale dell'anno tutte le nuove amicizie, le nuove conoscenze perché possono dare degli input importanti, degli stimoli, delle idee, delle ispirazioni ma possono anche proprio allargare delle strade che prima erano chiuse, possono aprire delle porte che prima erano sbarrate, possono mettere una parola buona dove serve, darvi un passaggio. Per cui insomma per una volta tanto qualcuno diciamo che ti dà pure una mano. Passiamo all'ariete. Un bellissimo Marte nella terza casa, che è la casa del dialogo, della comunicazione, della parola, dà proprio una voce più forte. Per cui permette di dire le cose con una incisività, una autorevolezza diversa, di farsi ascoltare di più, di mettere in ballo le proprie idee e farle valere, di affrontare dei discorsi che finora magari sono stati rimandati da una posizione più forte, anche di dichiarare il proprio punto di vista. Questo non riguarda soltanto l'amore, il lavoro, ma riguarda anche un po' la vita a 360 gradi. Per cui una grande spinta per chi ad esempio ha un nuovo amore nel cuore ma finora se l'è tenuto dentro, finora non l'ha dichiarato. Per chi ha bisogno di chiedere qualcosa di più sul lavoro e fino adesso non si è sentito in condizione di poterlo fare. Insomma nei prossimi mesi è un Marte che aiuta soprattutto a farsi sentire, per cui ad avere una voce più forte, più decisa, più determinata, più autorevole, delle idee più chiare e via discorrendo. Ottenuto il Sagittario per ultimo. Perché? Perché il Sagittario d'ora in poi ha Marte in opposizione. L'opposizione è, come sapete benissimo, un transito che è sinonimo di confronto. Per cui arriva un momento per il Sagittario di alzare anche un po' la voce e farsi valere di più. Soprattutto se ci sono delle situazioni che finora sono state ambigue, poco chiare, arriva il momento di insistere per ottenere maggiore chiarezza. Se ci sono delle situazioni che l'hanno penalizzato, che l'hanno messo in un angolo, che l'hanno fatto sentire diciamo con le mani un po' legate, arriva il momento di ribellarsi, di reagire, di rimettere la palla al centro, di farsi sentire. Ed è un transito che è perfettamente in linea con un cambiamento che il Sagittario sta facendo nell'arco del 2022. I primi cinque mesi avevano Giove in quadratura, quindi rallentamenti, quindi situazioni penalizzanti, compromessi, situazioni che facevano sentire bloccati. Da maggio in poi è arrivato Giove in buon aspetto, questo ha cominciato a rimettere in moto certe energie. Grazie a queste energie alcuni si sono rimessi in moto ma soprattutto se ci sono delle situazioni nei rapporti personali che non girano, adesso in questi ultimi tre mesi dell'anno il Sagittario avrà anche la spinta giusta per farsi valere, per metterle sul tavolo, per affrontarle in maniera diretta e per ottenere molto di più di quanto non abbia ottenuto finora. Per cui arriva un momento in cui il Sagittario vuole sapere esattamente chi ha dall'altra parte, scalpita di più per avere certe risposte, insiste, si fa valere, non si accontenta di risposte evasive, non si accontenta di mezze cose e tiene il punto finché non ottiene ciò che chiede. Contemporaneamente abbiamo anche un bel sole a favore per i prossimi giorni, abbiamo ancora venere a favore per cui tutto questo sostenuto comunque da transiti positivi. Abbiamo parlato del Sagittario con Marte in opposizione, adesso andiamo agli altri due segni che hanno Marte in posizione dinamica, cioè in una posizione di sfida forse ma anche di grande stimolo e di grande sprone e sono i pesci e la vergine che per i prossimi sei mesi avranno Marte in posizione di quadratura. Allora intanto partiamo da quelli che sono gli effetti più superficiali. Marte in quadratura può portare nervosismo, può portare a volte anche ad alzare un po' la voce, può portare a volte a perdere anche un po' le staffe, questo sicuramente. Però è uno sprone, è un'energia che aiuta a smuovere tutto ciò che è bloccato, tutto ciò che è impantanato, tutto ciò che sta fermo da mesi. E come lo fa? Lo fa mettendolo più in luce, e questo certe volte può innervosire, ma allo stesso modo facendo capire che è arrivato il momento di intervenire attivamente. Per cui a me la quadratura di Marte ha sempre fatto pensare agli ostacoli che si mettono al concorso ippico e che permettono al cavallo di saltare più in alto e meglio. Quindi è come dire una certa situazione che comunque è ferma, che comunque va smossa, che comunque va sbloccata, che nei mesi passati magari mi facevo anche un po' scorrere addosso di fronte alla quale chiudevo un occhio, adesso diventa più visibile e mi spinge ad intervenire attivamente per sbloccarla una volta per tutte. Per i pesci è qualcosa che riguarda i propri spazi, difenderli da chi cerca di invaderli, spazi domestici, spazi abitativi, spazi vitali, spazi decisionali, quindi è come se i pesci avessero la spinta giusta nei prossimi mesi di ristabilire dei confini, di rimettere paletti, di dire fin qui ti puoi spingere, oltre questo confine non puoi andare, se no ti rimetto a posto, ti rimetto al posto tuo. È come se di fronte a delle situazioni che procedono lentamente sul lavoro, che si bloccano di continuo, che non portano ancora a dei risultati, desse la spinta giusta ai pesci per rimboccarsi le maniche e insistere di più e farsi valere, smuovere quelle che sono le corde giuste, non stare lì a osservare ma contemporaneamente agire in modo più deciso, in modo più forte. Sicuramente siamo ad un giro di boa fondamentale per i pesci, tra l'altro da ottobre tornerà giove nel segno e lì comincerà tutta una spianata molto importante. Adesso c'è proprio bisogno di farsi valere, di smuovere tutto ciò che è bloccato e questo giro di boa, il sole che arriva in opposizione e Marte che arriva in quadratura ha proprio il senso di spingerli a smuovere tutto ciò che è fermo e a riprendersi in mano le redini di certe scelte, di certe decisioni, soprattutto quando le sorti di un lavoro, di una storia, di una situazione di qualunque genere sono nelle mani di qualcun altro. E allora ecco che i pesci che solitamente sono più defilati, giocano più di sponda, si riprendono in mano le redini e cominciano a insistere per ottenere. Qualcosa del genere riguarda anche la Vergine ma soprattutto sul fronte del lavoro, sul fronte della carriera. È come se la Vergine con Marte in decima casa, in quadratura, alzasse la posta in gioco ma dovesse anche battersi di più, forse perché si muove in un ambiente più competitivo, forse perché ha le prese con un nuovo lavoro che è meno familiare e più competitivo di quanto non pensasse. Comunque soprattutto per chi sta iniziando qualcosa di nuovo e sono molti i nati del segno della Vergine che sono alle prese con un nuovo inizio, questo è un momento in cui forse guardarsi anche un po' di più le spalle, battersi di più perché sale la posta in gioco, questo è un po' il concetto. Quindi Marte in decima casa sale la posta in gioco sul lavoro, ci possono essere anche delle situazioni come delle promozioni, dei riconoscimenti, dei nuovi ruoli che fanno sentire più in vista ma che contemporaneamente aumentano anche le responsabilità e quindi bisogna giocare con maggiore attenzione. Ma è anche vero che è un transito di decima casa che può portare proprio un salto di qualità notevole per cui a fare uno scatto di crescita importante sul lavoro. Allora sono rimasti fuori quattro segni con i quali Marte non forma aspetti particolari né armonici né dinamici però andiamoli a vedere per vedere un po' quali sono gli ambiti che tocca questo transito. Partirei dallo scorpione per il quale Marte transita in ottava casa ma soprattutto si toglie da quella opposizione in cui è stato negli ultimi due mesi che può aver reso più difficoltoso il cielo soprattutto in amore o sul fronte dei rapporti. Agosto soprattutto ma anche luglio in buona parte ha visto uno scorpione più adombrato, più in certi casi nervoso o comunque con una difficoltà di far scorrere bene i rapporti. Agosto per lo scorpione non è mai un mese brillantissimo nonostante ci siano le vacanze, nonostante tutta una serie di situazioni, arriva un momento in cui finalmente sto Marte si leva dall'opposizione e cominciano a girare meglio i rapporti. Ma soprattutto entra nell'ottava casa che è una casa che innanzitutto restituisce diciamo intimità nella coppia, riporta in alto la passionalità, riporta in alto l'eros, riporta in alto il fascino e rimette lo scorpione al timone di certe situazioni che gli erano un po' sfuggite di mano. Per cui è uno scorpione prontissimo a rimettere gli altri al loro posto, in certi casi anche a chiudere certe situazioni se ormai ha la certezza che non vanno più bene, a cercare nuove situazioni, nuovi referenti, nuovi interlocutori, insomma proprio riprende in mano il timone di certe situazioni che gli erano un po' sfuggite. Simile allo scorpione è lo scenario del toro che da questa settimana ha da un lato il sole a favore perché dal 23 molla la quadratura dal leone e torna a favore in vergine e dall'altra un Marte di lungo corso nella seconda casa che è la casa dei soldi. Allora questo è un transito, è un cielo che può portare moltissimo innanzitutto a chi ha bisogno di chiedere qualcosa di più sul lavoro, di rivedere certi accordi, di farsi valorizzare di più. È un transito che può portare molti a rimettersi al centro della scena e a chiedere maggiore attenzione ad esempio al partner. Tutto questo da una parte è battagliero perché abbiamo un Marte nella casa della valorizzazione che spinge anche a chiedere e a imporsi di più. Dall'altra però con un sole che lascia la quadratura, quindi il freno a mano e entra a favore e quindi comincia a dare un'accelerata più costante per cui diciamo ci avviciniamo ad un mese di settembre che per il toro sarà assolutamente positivo e cominciamo già da adesso a sganciare le prime zavorre e a ottenere diciamo i primi i primi pianeti a favore. Andiamo avanti ancora abbiamo il cancro ed il capricorno. Partiamo dal capricorno, questo è un transito che aiuta moltissimo a ristabilire dei punti fermi che è qualcosa di cui il capricorno ha una grandissima necessità anche perché da maggio ha giove in quadratura che l'ha fatto sentire sradicato, che l'ha fatto sentire privo di alcune certezze, che gli ha dato la sensazione di camminare un po' a vista, di non avere una direzione ben chiara in mente. Ci per l'altro oggi ho trascorso tutto il giorno a scrivere il 2023 del capricorno e parlavamo proprio di questo, del fatto che questa parte finale del 2022, l'inizio del 2023 servono proprio a ristabilire nuovi punti fermi, a trovare una nuova rotta. Questo Marte in sesta casa soprattutto per chi ha le prese di un nuovo percorso, per chi ha iniziato un nuovo lavoro, per chi ha cambiato casa, per chi ha cambiato zona, quartiere, città, aiuta proprio a ricreare un ordine fatto di abitudini, fatto di punti fermi, di situazioni ben conosciute e via dicendo. E quindi sicuramente un transito diciamo costruttivo e positivo unito al fatto che comunque dal 2023 anche il sole torna a favore nella nona casa, per cui qua delle due luna e il capricorno che mi ascolta sa a cosa mi riferisco. O troviamo dei nuovi accordi, delle nuove situazioni, delle nuove organizzazioni per cui certe cose tornano a girare bene, non come negli ultimi due mesi, oppure qualcuno è prontissimo a guardare in direzioni diverse e ad andarsene. E questo sole in nona casa ha proprio il senso di dire ti mostro nuove possibili strade, anche se comportano di andare altrove, quindi di cambiare itinerario o di uscire da una zona di comfort. Chiudiamo con il cancro che ho lasciato per ultimo perché è il segno che ha Marte nella dodicesima casa, che è sempre una casa preparatoria, è sempre una casa diciamo da un lato di attese ma dall'altro anche di lavori sotto traccia, di situazioni di fondamenta che si ricostruiscono. Allora partiamo dagli aspetti più complessi del transito, con Marte in nona casa, con Marte in dodicesima casa a volte si ha la sensazione di guardare la vita attraverso un vetro appannato, di far fatica a capire determinate situazioni con chiarezza, si fa fatica certe volte a distinguere gli amici dai nemici, quindi le situazioni che funzionano da quelle che invece sono solo una perdita di tempo. Per cui con Marte in questa posizione attenzione a non saltare troppo presto a conclusioni affrettate che a volte sono sbagliate. Questo ha doppio senso, cioè nel dare fiducia a situazioni nuove senza aver verificato abbastanza, perché non sempre è oro tutto quello che luccica, ma allo stesso tempo anche a etichettare come pericolosa una certa situazione che invece può portare anche a qualcosa di importante. Per cui soprattutto in amore, per chi ha un rapporto nuovo, una nuova conoscenza che non si capisce, che piega prende, per chi chiede conferme o certezze che ancora sono premature, insomma non siate troppo rapidi nell'etichettare come complicata una determinata situazione. Allo stesso modo però ricordiamoci che il cancro è il segno opposto al capricorno e anche coivale esattamente lo stesso discorso che facevamo prima. Veniamo da due mesi con Marte storto, che hanno mostrato soprattutto il lato più difficoltoso di certe situazioni e andiamo ad un 2023 dove o certe situazioni si ricostruiscono in maniera corretta, si aggiustano, cominciano a girare per il verso giusto, cominciano a mostrare delle prospettive più concrete oppure il cancro è del tutto pronto a prendere e a cambiare strada. E con questo sole dal 23 agosto in buon aspetto dalla Vergine ne ha anche le occasioni. Anche per qui, e qui chiudo, andiamo verso un 2023 in cui Plutone lascia l'opposizione per il cancro e quindi tante situazioni che finora ha accettato per paura di non poterne fare a meno, per un senso di bisogno, anche per un senso di responsabilità verso gli altri, adesso piano piano potrà smontarle e ricostruirle in maniera diversa secondo un criterio di libera scelta e di desiderio. Quindi non più ciò che passa al convento perché mi tocca prendermelo perché ne ho bisogno, ma scelgo io e scelgo esattamente ciò che desidero. Anche qui comincia, diciamo, una manovra di avvicinamento ad un marzo in cui il cielo, marzo 2023 in cui il cielo cambia radicalmente. Allora, abbiamo parlato un po' per tutti i segni di questo nuovo Marte. Vi lascio soltanto con un'ultima suggestione. Vi avevo detto prima che Marte procede diretto fino al 31 ottobre, quando poi raggiunge il 25esimo grado dei gemelli, poi ingrana la retromarcia. Andrà in retromarcia fino a metà gennaio toccando l'ottavo grado e poi ingranando nuovamente la marcia avanti. Allora, io mi sono andato a guardare i due simboli sabbiani associati a questi due gradi, rispettivamente il 25esimo e l'ottavo grado dei gemelli. Marte arriva a fine ottobre al 25esimo grado al quale è associato questo simbolo. Gelo invernale nel bosco. E quindi parliamo di una situazione che sembra ferma, di una situazione che richiede forse ancora delle attese. Parliamo di un gelo invernale. L'inverno è la stagione che precede la primavera. La stasi invernale precede l'esplosione di una nuova rinascita primaverile. E quindi certamente non parliamo di una situazione bloccata, ma parliamo di una situazione che ha bisogno di più tempo e di certi processi che non possono essere accelerati più di così. Però poi arriviamo a metà a gennaio con un Marte che torna diretto e quindi si rimette in moto all'ottavo grado dei gemelli dove il simbolo sabbiano dice un arciere medievale sta in piedi del tutto sicuro di sé con l'arco in mano e con la faretra piena di frecce. Allora probabilmente questo è ovviamente questo è un simbolo di tutt'altra polarità che parla di una faretra piena di frecce e quindi di tante opportunità, di un arciere sicuro di sé e quindi anche di prendere e di centrare il bersaglio. Allora probabilmente arriveremo tutti alla fine di ottobre con qualcosa che richiede più tempo e anche con un senso di stasi o di sentirci bloccati in certe situazioni. Tutto questo serve per capire esattamente su quali bersagli puntare, quali frecce giocarsi per poi arrivare a metà gennaio dove questo gelo del bosco si scioglie e dove da lì sì che possiamo cominciare diciamo a giocarci le nostre carte nel modo più giusto. Per cui Marte quando fa il retrogrado ha proprio il senso di spingere a chiarire meglio certe direzioni, a lavorare nell'interno, a sentirsi abbastanza forti da fare un cambiamento, abbastanza sicuri di sé, a ricostruirsi dentro prima di poter tirare fuori questo all'esterno e questa cosa probabilmente arriverà nel momento in cui poi Marte riprende il moto diretto e guarda caso lo fa in un grado che parla proprio di frecce da lanciare verso il bersaglio, di un arciere sicuro di sé che sta in piedi, sta dritto quindi anche diciamo nel massimo del suo vigore e che ha una faletta piena di frecce. Allora io vi ringrazio tantissimo per essere stati insieme, mi mancavano tantissimo queste nostre chiacchierate insieme e ci vediamo domenica prossima in cui parleremo poi del nuovo transito del sole e delle tappe di settembre segno per segno. Nel frattempo non mi resta che darvi un bacio a tutti, augurarvi buona settimana a tutti ma soprattutto buon Marte in gemelli a tutti. Grazie, vi voglio bene!